vi è mai capitato di avanzare del cioccolato dopo le feste di pasqua ho trascorso un pomeriggio con i ragazzi della casa fuori casa e mi hanno regalato un uovo di cioccolato fondente e dato che nella cucina di tommy the cooker non si butta via niente oggi vi propongo degli snack con cereali soffiati e cioccolato fondente pronti cominciamo gli ingredienti sono cereali per la colazione misti senza zucchero e il nostro uovo rompiamolo la sorpresa non ci serve semplicemente sciogliamo il cioccolato a bagnomaria ma se preferite potete farlo anche nel microonde intanto ci procuriamo un foglio di carta forno e un contenitore da mettere in frigo io lo scelto di forma rettangolare ma può essere anche di forma rotonda semplicemente mettiamo i nostri cereali nel cioccolato ancora caldo e amalgamiamo e 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 con un paio d'ore questo è il risultato e 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 vediamo che tutti i cereali sono senza zucchero il cioccolato è fondente e quindi non ci sono aggiunte di zuccheri ora li assaggio mmm buonissimo buon appetito se volete conoscere il progetto della casa fuori casa vi lascio il link del video su youtube in descrizione e anche il link della pagina facebook e 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